A distanza di nemmeno tre mesi dall'edizione di marzo, Torrita con le sue otto contrade si è rimessa in gioco per organizzare l'edizione straordinaria del Palio dei Somari. La settimana degli eventi parte domani nel pomeriggio, prima con l'apertura del mercato della Nencia e con la cerimonia di estrazione delle batterie in piazza Matteotti e poi con le taverne per gustare i piatti della tradizione. Il dopo cena sarà ricco di intrattenimento con la compagnia d'arme Santaccio dei Terzieri di Chiusi, i giocolieri e i trampolieri della compagnia del Drago Nero, i mangiafuoco del gruppo Fuoco Fatuo e poi con la musica degli Arcambold fino ad arrivare a mezzanotte quando andrà in scena Ciucco Ricò per ballare tra le mura torritesi. Domenica 29 maggio la festa comincia dalla mattina con il mercato della Nencia e con Somarando, l'evento che permetta ai grandi e piccini di conoscere il re della festa, il Somaro. Il pomeriggio torna come di consueto l'esibizione degli allievi della scuola Sbandieratori e Tamburini e poi riaprono le taverne e dopo cena tornano gli spettacoli. Ricorre la sessantesima edizione da quando è stata creata questa bellissima festa in onore ai 50 anni di Palio, in onore di coloro che bene o male hanno inventato per gioco questa bellissima festa che ad oggi ha raggiunto livelli importanti, importanti sia a livello locale ma anche a livello nazionale e internazionale. Per cui bisogna rendere omaggio a coloro che hanno fatto tutto questo e che ci hanno portato a questo. C'è questo grande fervore sia all'interno del paese che fuori del paese, in tutte le contrade, a far sì che questa edizione straordinaria risulti veramente straordinaria. Questa festa negli ultimi anni è cresciuta tanto sia a livello numerico ma anche a livello di preparazione, con tanti eventi. E anche questo straordinario, pur essendo straordinario in tutto e per tutto, anche nella preparazione, perché preparare due pali non è semplice e siamo veramente, tanti sono veramente molto stanchi, però poi quando arriva a fare la festa la stanchezza si dissolve e viene fuori questa gioia, questa energia, questa voglia di fare festa, di fare palio che poi dopo ci riempie di tanta gioia, sia chi vince che chi perde.